Buongiorno amici e benvenuti in un nuovo video di questo canale. Dunque, prima di cominciare questo video, forse due parole le dobbiamo sprecare. Allora, prima di tutto vi volevo, anzi, ringraziare tutti quanti, mi avete scritto in tantissimi, mi avete mandato degli email, avete scritto tramite Messenger, avete scritto tramite Instagram, insomma, mi avete contattato in tanti chiedendomi come mai non avevo più pubblicato nessun video. E questo, ragazzi, mi ha fatto immensamente piacere, non sapete quanto. Purtroppo non sono stato benissimo, quindi ve lo dico perché mi sembra di parlare un po' ai miei amici che stanno anche dall'altra parte, perché poi di fondo non c'è nulla da nascondere, tra virgolette, e effettivamente ho avuto un problema, forse dovuto un po' alle troppe ore davanti a un PC da una vita, e allora chiaramente vai dal medico, perché vai dallo specialista che ti aiuta, non dormivo più la notte, avevo problemi con l'insonnia, e quindi di conseguenza abbiamo scoperto che le troppe ore davanti al PC mi avevano generato questo. Chiaramente io per mangiare uso il PC perché è il mio lavoro, quindi di conseguenza facevo veramente, ragazzi, lo stretto indispensabile. e ho proprio, come dire, quando uno dice stacchi i cavi, e ho proprio staccato i cavi di tutto quanto, mi sono fermato, facevo le mie ore di lavoro davanti a un PC, poi ragazzi aprivo la porta e uscivo, cioè dovevo assolutamente staccare. Devo dirvi che mi ha fatto bene, adesso non ho più questi problemi, ho ricominciato a dormire, quindi di conseguenza riposo anche abbastanza bene, non tantissime ore, però ho pensato che alla fin fine forse un piccolo video, avevo proprio voglia di poterlo fare, avevo dei programmi che volevo portare avanti, avevo dei piccoli progetti per il canale, che chiaramente ho dovuto mettere tutto in stand by. Però ecco, spero davvero che questo sia stato solo ed esclusivamente uno stand by, cioè un momento in cui ci siamo fermati un attimo, va bene, e così insomma ci siamo ripresi, questo periodo della mia vita sto abbastanza bene, quindi penso di poter ricominciare a fare anche contributi per il canale. Vi chiedo immensamente scusa a tutti quei commenti che avete fatto a cui non ho dato corso, perché dare corso significava stare davanti a un computer, perché purtroppo alcuni commenti implicavano il fatto che per darvi delle risposte dovevo fare determinati test, cioè vedere effettivamente perché magari su un video di spiegazione, che poteva essere un programma, che poteva essere un'applicazione, scusate, un sistema operativo, quello che sia, non è che uno ha le risposte in tasca di tutto quanto, quindi magari significava andare a cercarle. L'ho sempre fatto, ho sempre diciamo cercato di dare supporto, però ragazzi purtroppo questo giro ho mancato. Adesso piano piano, piano piano, ricomincerò anche a darvi delle risposte. Magari tenterò anche di riprendere quelli più vecchi, spero che non ci siate rimasti male, io ce la metto tutta, ma chiaramente purtroppo quando la salute comincia a non essere più performante come una volta, bisogna, come si dice, arrivi a un certo punto e devi tirare un po' il freno a mano. Ma comunque, ancora vi ringrazio tantissimo per quello che avete fatto, ma tanto tanto tanto, perché veramente mi avete, ogni volta che aprivo il pc trovavo un messaggio, trovavo un'email, una cosa veramente bella e non me l'aspettavo. In fin dei conti questo è un canale piccolino, va bene fatto, diciamo, non ha tantissimi iscritti e mi ha veramente sorpreso l'affetto che mi avete dato, quindi vi ringrazio immensamente con tutto il cuore. Allora, volevo fare un messaggio, volevo fare un vlog più che un video, però poi io non sono molto abituato a fare vlog, anche se tante volte sono cose che andrebbero fatte perché sono più veloci e quindi questi giorni stavo usando un applicativo che ragazzi ho veramente trovato eccezionale e ve lo volevo far vedere, ma come vi ripeto, è un video fondamentalmente per dirvi io ci sono e piano piano ricomincerò. Quindi, il programma, scusate, l'applicativo, il sito di cui vi stavo parlando, eccolo qua, si chiama Magic Eriser, sicuramente voi, qualcuni di voi lo conoscono, io questo sito non lo conoscevo, me l'ha girato un mio amico grafico, mi ha girato questo sito e mi ha detto Carlo provalo un attimo e guarda com'è. Beh ragazzi, vi posso dire che è impressionante? È veramente impressionante. E vi faccio vedere che cosa fa questo piccolo sito. Allora, praticamente lui rimuove gli oggetti, va bene, con una semplicità pazzesca. Adesso noi andiamo a prendere delle immagini. Quindi, guardate, io sono andato su un sito di immagini gratuite e mi sono preso, eccole qui, le vedete, sul desktop delle immagini. Eccolo qui. Ne vado a dragare, ho fatto drag and drop e ne ho presa una. Adesso, guardate, ne ho fatte diverse perché in realtà effettivamente ne ho fatte anche altre di lavoro che chiaramente non posso pubblicare, ma queste qua sì. Quindi voi qui avete una paletta che potete tranquillamente qui con questo tastino qui sotto potete stringere oppure potete allargare come volete in funzione all'oggetto che dovete togliere. Andate a selezionare l'oggetto che volete levare e fate cancella. Guardate che cosa fa. Ricrea anche il mare che c'era sotto. Ha ricreato tutto. Questo oggetto è stato totalmente rimosso. Ma proviamo a farne un'altra. Prendo quest'altra immagine, la draggo. Ho cercato di prendere... Ah, scusate, no. Devo draggarla qui dentro. Ho cercato di prendere immagini complicate perché poi dico, ma è possibile che io levo questa signora con il suo cane e mi ridà esattamente questo telaio in legno che c'è dietro? Allora, ho provato. Ho preso la signora così, l'ho rimossa, l'ho selezionata. Ho selezionato anche il canetto qui sotto, così, con l'altra gamba. Ho lasciato di proposito l'ombra. Adesso gli dico cancella. Guardate che cosa fa. È vero sì che qui sotto, se vedete, è leggermente impastato. Ma ragazzi, non è semplice. Qui c'è un'ombra per terra. Io la seleziono e gli dico cancella. Guardate che cosa fa. È davvero impressionante. Adesso, torniamo indietro. Vediamo l'ultima, ma tanto per divertirci un po'. Qui c'è il mare. Ho preso questi due bambini che sono al mare. Diminuiamo la paletta. Cominciamo a toglierne il primo bimbo. Ecco qui. Lo selezioniamo bene tutto. Anche se non siamo precisi, va bene lo stesso. Lo andiamo a rimuovere. Guardate che roba. Ha ricreato esattamente l'onda che stava dietro la gamba. Adesso io rimuomo anche questo bimbo. Ecco qui. Così. Lo selezioniamo bene. Selezioniamo tutto. Perfetto. Cancella. Ecco qui. Cioè ragazzi, che cosa vi devo dire? Io vi dico soltanto che se apriamo un Affini di Foto, un Photoshop e fare questo lavoro, beh, non è immediato. Credetemi, non è immediato. Voi mi direte, va bene Carlo, ma poi che faccio? Posso salvarla? Allora, il software, se io vado a fare scarica, ve lo faccio vedere all'ultimo. Eccolo qui. Chiaramente lui mi dice di acquistarlo, però, però, mi dice anche che posso scaricare questa immagine tranquillamente 600x400 con il logo Magic Studio. Io l'ho, eccola qui, l'ho scaricata. Aspettate che era questa, l'aggetto, prendo quest'altra. La metto qui, eccola qui. Questa è l'immagine, la apro. Come vedete, c'è un logo Magic Studio, ma non ho più niente qui intorno. Volendo, posso aprire un programma di grafica, tagliare questa scritta in fondo e ho la foto pulita. Perché la mette soltanto in basso a destra. Quindi, diciamo che se devo rimuovere un oggetto che sta al centro dell'immagine, posso tranquillamente farlo. Poi, se effettivamente fate un lavoro e questa cosa vi serve, e allora, con 70€ l'anno, potete fare questo lavoro su tutte le foto che volete. Bene ragazzi, il video finisce qui. Questo ve l'ho fatto vedere un po' così, ma era fondamentalmente... Vi lascio, come al solito, il link di magicstudio.com in descrizione. Così ci fate un giro. Non vi dovete, non dovete accedere, non dovete fare nulla. Come avete visto, io non ho, eccolo qui, non ho fatto nessun login, non ho fatto nulla. Quindi, la possibilità di accedere, cioè di fare questo lavoro, è veramente gratuita, sotto tutti gli effetti. Bene ragazzi, questo video finisce qui. Non vi dico se vi è piaciuto, non vi dico di registrarvi al canale. Spero chiaramente che lo fate. Io, con questo video, vi dico che sono rientrato, diciamo, un po' nell'ottica di rifare video. E quindi, diciamo, di riportare poi, magari, dei contenuti un filino più interessanti. Anche se poi, queste cosine qua, alla fin fine, a me, quando me l'hanno comunicato, dovevo, come vi ho detto, dovevo rimuovere delle cose, anche in bassa risoluzione, perché dovevo farci, ragazzi, dei bottoni, quindi in maniera molto piccola, quindi non mi interessava l'alta risoluzione, quindi non dovevo fare stampe, tipografico, cose di questo genere, a me è andato benissimo. Questo è un sito, comunque, da tenere nel bookmark, perché qualsiasi cosa, sicuramente, vi salva la vita. Bene ragazzi, allora, il video, come ho detto già prima, finisce qua, e noi ci vediamo al prossimo video. Grazie.